Anche l'europarlamentare Antonio Tajani, già presidente del Parlamento europeo, ha partecipato al convegno in regione sulle politiche europee e riforme istituzionali inerenti l'Abruzzo, momento di confronto organizzato dai consiglieri regionali di Valori Abruzzo, Simone Angelo Santi, Antonio Di Gianvittorio e Emanuele Marco Vecchio e dal gruppo del Partito Popolare Europeo, con l'obiettivo di migliorare la competitività del sistema produttivo abruzzese nell'ambito dello scenario nazionale e internazionale. E a proposito di scenario internazionale, inevitabile parlare di guerra e situazioni in Ucraina, per Tajani bisogna combattere per la pace e deve vincere la democrazia. È un momento molto difficile, bisogna combattere per la pace. È ovvio che per far sedere allo stesso tavolo Putin e Zelensky bisogna che l'Ucraina non sia invasa dalla Russia. Ecco perché bisogna inviare armi all'Ucraina, ma quelle armi non devono essere utilizzate per un escalation militare, cioè per andare a colpire in territorio russo. È un momento particolare, bisogna che prevalga la democrazia. Dalle parole di Zelensky c'è un messaggio di apertura, riconoscere ormai che la Crimea può rimanere in mani russe, quindi speriamo che a questo messaggio ne arrivino altri positivi e contiamo su tutti coloro che intendono fare mediazioni. Importante è anche il viaggio di Draghi negli Stati Uniti, l'Italia e l'Europa devono giocare un ruolo importante. C'è un problema, ha detto l'euro parlamentare, riferendosi alla situazione in Italia, di energia. Per lui però l'uscita dagli accordi con la Russia per il gas deve essere graduale. C'è un tema che riguarda l'energia, i prezzi dell'energia, dobbiamo assolutamente mettere un prezzo unico in Europa, insomma serve un tetto e poi dobbiamo trovare le alternative al gas russo, ecco perché noi riteniamo che l'uscita dagli accordi con la Russia deve essere graduale, non possiamo abbandonare il gas russo domani mattina perché ci sarebbe una caduta negativa nei confronti delle nostre imprese. Relativamente poi al tema del convegno gli argomenti snocciolati sono stati tanti per Tajani, ora l'opportunità data dal PNRR è enorme e deve essere importante anche per ammodernare le infrastrutture di collegamento con l'Abruzzo. Noi intanto contiamo di lavorare sodo per fare in modo che il PNRR possa dare risposte concrete a una regione così importante nell'Italia del centro-sud. Soprattutto bisogna pensare alle infrastrutture, c'è da risolvere il problema della Roma-Pescara, è un problema annoso, da quando facevo il militare le cose non sono cambiate, era il 1974-75, oggi ci vuole lo stesso tempo per andare da Pescara a Roma e da Roma a Pescara, questo è inaccettabile. Grazie. Grazie. Grazie.